Attenzione la palla è in avanti sul settore di destra, il traversone! E' gol! 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 C'ha un dono! No, Gio Silva! Gio Silva! Gio Silva lo pone del gol! Sembrava un inserimento dalle retrovie! Gio Silva! E' fatta! E' fatta! 2-0 al 40esimo! Bellissima l'azione sulla destra con il traversone che ha consentito a Gio Silva di siglare il gol del 2-0 va a raccogliere l'abbraccio di tutta la panchina vediamo le immagini della piazza di Bari Gio Silva splendido! L'anticipo sul portiere Gomis ha legittimato il vantaggio prima con Galano lo ha difeso con ordine, lo ha difeso con razionalità e adesso si porta ancora in avanti nei secondi che restano da giocare serie di batti e ribatti ma mancano 30 secondi e fa il terzo! Ho detto adesso fa il terzo! Il terzo gol del Bari! Questa volta è Ciaudone! che se lo merita tutto! Se lo merita tutto! Bravo Ciaudone! Questa volta è davvero Ciaudone! 3-0 per il Bari! Ormai vediamo le immagini che arrivano da piazza prefettura il 3-0 del Bari il giusto riconoscimento ad un giocatore che è diventato il leader di questa squadra 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 è diventato il leader di questa squadra!